perché ti forma ti fa come ho detto prima crescere a livello personale a livello di gruppo perché comunque nel rugby non c'è vedo comunque non c'è ad esempio il razzismo dove può esserci anche in altri ambienti perché comunque in campo sei unito sei tutti amici se non fratelli con un unico obiettivo divertirsi e ovviamente si cerca anche di vincere ecco che sinceramente personalmente se io vinco mi diverto di più però è una scuola una scuola per per la vita e per il futuro dei bambini